Dopo il via libera dell'AIFA alla vaccinazione dei bambini compresi nella fascia d'età 5-11 anni arrivata nelle ultime ore, la ASL di Pescara è al lavoro per individuare un'area dove aprire un hub vaccinale e dove poter far vaccinare i più piccoli. In tassenso l'amministrazione comunale di Pescara è già al lavoro per prestare la massima collaborazione all'azienda sanitaria locale come conferma ai nostri microfoni il sindaco Carlo Masci. Io sono a favore di tutti gli hub che riguardano le possibilità di vaccinare le persone perché credo che la vaccinazione sia fondamentale per allontanare il virus e quindi più hub ci sono e meglio è. Poi Pescara è una città che risponde benissimo, ha sempre risposto benissimo, noi abbiamo vaccinato oltre l'80% dei pescaresi, adesso c'è questa nuova situazione che riguarda i ragazzi sotto 12 anni e anche su questo ci stiamo muovendo per garantire la massima possibilità di frequenza degli hub vaccinali a Pescara e ovviamente con l'accompagnamento dei genitori perché parliamo di bambini piccoli però stiamo registrando che cosa? Che nelle scuole soprattutto nelle fasce di età che non sono vaccinate ci sono bambini che sono oggi con il coronavirus quindi dobbiamo muoverci e prima lo facciamo e meglio è per tutti quanti. Io avevo chiesto l'ASD di aprire il centro vaccinale a Porta Nuova e sta funzionando benissimo, ho chiesto anche di tenerlo aperto sabato e domenica, l'ASD si sta organizzando per fare questo perché c'è tanta gente che può fare il vaccino solo il sabato della domenica, tutto quello che si potrà fare si dovrà fare per i nostri concittadini e il comune è pronto a fare la sua parte come sempre. Ora si sta valutando anche l'ipotesi di aprire un nuovo centro vaccinale a Pescara o in provincia di Pescara soprattutto per i bambini? Sì, noi siamo pronti, ovviamente dobbiamo farlo insieme alla ASL e la ASL che conduce il gioco perché l'ASL ha rapporti con i medici, con gli operatori sanitari, per quello che ci riguarda abbiamo messo a disposizione lo spazio di Porta Nuova, abbiamo messo a disposizione gli spazi all'interno delle palestre per vaccinare i bambini, continueremo a fare quello che l'ASL ci chiederà per supportare i nostri concittadini e per fare in modo che tutti possano tutelarsi al massimo.